Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del nostro vanilla hardcore ragazzi Allora bisogna fare un pochettino di cose che effettivamente non erano previste ma bisogna farle per il bene di tutti Allora intanto Ah si tipo qua c'è tipo l'inventario incasinato perché l'ultima volta siamo andati in caverna E forse avevo detto che avrei sistemato l'inventario off camera Cosa che a quanto pare non ho fatto vabbè non potevate aspettarvi chissà che cosa da me lo sapete come sono fatto io dai Comunque ragazzi bisogna prendere intanto il legno che non ci abbiamo tutto Ho scoperto una cosa abbastanza strana prima di registrare quindi intanto facciamo delle fence ok Perché lo so già che ce l'ho da qualche parte tipo in questa chest qui Eccole qua Perché ho visto una cosa un po' brutta Intanto sistemiamo qui Guardate le galline qua Ora va bene ok che c'è un coso qua Uno scheletro ci sarà finito dentro in qualche modo sarà morto Però alcune stanno morendo e io ho dedotto che sia perché crepano Quando tipo c'è vedete qua è morta una gallina Cioè qualcuno potrebbe dire no vabbè guarda che l'ha uccisa un mob Perché c'era anche la cosa dello scheletro lì Sì è vero che potrebbe aver ucciso un mob ragazzi Però i mob non attaccano gli animali così Cioè un mob la notte non è che va lì e attacca le galline magari i zombie ecco attaccano i villager Ma non attaccano le galline quindi io penso semplicemente che quando ce ne sono così tante condensate in un punto solo Secondo me si vanno tipo a sopprimere da sole E siccome si noi vogliamo fare un allevamento intensivo di quelli proprio dove ci devono stare 10 miliardi di galline dentro Però rendiamoci anche conto che effettivamente devono vivere in un posto diciamo appunto vivibile E quindi non possiamo buttarle in questo angolino minuscolo perché sennò poi non possiamo averne abbastanza E noi ce le vogliamo mangiare quindi ragazzi insomma Bisogna qua bisogna allargare assolutamente il recinto Perché sennò ci muoiono e noi non vogliamo farle morire Cioè oddio forse farle morire sì però le vogliamo uccidere noi ecco se no ci viene tolto il divertimento per uccidere ragazzi Allora non bastano quelli che ho fatto mi sa Eh no eh no perché qua qua vengono liberate ora mi sa Qua vengono liberate ragazzi questo Ah vabbè no vabbè si può fare in effetti così alto 2 In modo che per il momento non scappano Ed è stratattica questa cosa ok perfetto Quindi effettivamente il recinto manco servirebbe però per il momento giusto per allargare un minimo è d'obbligo fare così Quindi allora ce l'abbiamo l'accetta sì perfetto ce l'abbiamo Mi ricordate sempre ragazzi voi che io uso cioè non uso le cose giuste dei suoi momenti giusti Lo so benissimo però è più forte di me proprio Magari non vi mettete in mezzo tutte schifose E allora qua mettiamo la fence qui Finiamo questo pezzettino qui ragazzi E poi più o meno ci siamo Lo so è ancora troppo piccolo ragazzi ma questa qui era semplicemente una cosa provvisoria Perché sennò veramente andava a finire male E oltretutto voglio ripiazzare dei blocchi tipo da qualche parte Ah no a parte da qua riesco ancora ad uscire oppure no vediamo Olè sì ok da qua si esce ancora perfetto A questo punto ragazzi facciamole spawnare altre No 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 così mi spawnavano davanti ragazzi c'è la fence con Oh no 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 c'è una laggiù La voglio beccare Oh la mira ragazzi però non era il mio scopo quello lì Ok è nato pure un pulcino vediamo se ne facciamo nascere un altro Ok non è nato Un'altra cosa che vogliamo fare molto importante ragazzi è questa qui una puntata un po' così Per migliorare le nostre cose dovevamo effettivamente piantare il grano Perché nonostante le carote abbia detto che effettivamente sono un'ottima risorsa Sono buonissime e tutto Non possiamo continuare a coltivarle perché per le galline appunto a noi ci serve il grano Perché poi è divertente coltivare le galline Sì ciao l'ho già detto un'altra volta Mi avete ripreso in 20.000 a levare le galline Quindi assolutamente bisogna fare l'urticello con i semini Almeno quando poi spacchiamo la pianta ci dà i semi il grano ci dà tutte le cosine interessanti Quindi perfetto così dovrebbe andare leggermente meglio Oltretutto i semi nemmeno ci bastano perché nemmeno pochi E quindi le galline le nostre bellissime galline oggi non mangiano Saranno un pochettino al digiuno Chi se ne frega comunque Allora cosa posso mettere qui ci metto questi qui Le carote me le porto dietro perché le voglio mangiare E qua ci metto roba un po' a caso che riguarda l'orticello Magari posso bombillare un pochettino Così almeno qualche pianta cresce subito Proviamoci ragazzi Vediamo Quanti semi mi avranno dato Uno Come uno Ma dai ho rosso due pianti e mi ha dato un seme solo No ragazzi io spero sia sfiga questa qui perché Se ci vanno pure a diminuire i semi Proprio ciao ragazzi Ciao eh Se no vabbè a limite Mi avete detto che effettivamente siccome L'avevo già detto anche nello scorso episodio però lo ripeto Siccome i villager mi avete detto che ripiantano i semini Cioè ripiantano le cose che rompiamo Magari possiamo andare al villaggio laggiù per vedere appunto se hanno altri semi Li rubiamo tutti e chi se ne frega proprio Cioè loro sono lì al nostro servizio quindi Comunque nell'ultimo episodio vi ho chiesto anche una cosa molto molto importante Ovvero se Intanto perché ci sono blocchi qui Ah è vero quelli che ho messo prima che non ho ripreso Oh altre uova perfetto Vi ho chiesto se secondo voi sarebbe stato meglio andare in un posto nuovo diciamo in un'altra caverna Appunto a cercare le cose oppure andare in quella di prima e scavare l'altezza 12 Ragazzi non l'avessi mai chiesto Vi siete divisi in un modo anomalo Quindi sinceramente non so cosa fare ragazzi Perché molti mi avete detto di andare sotto e continuare a scavare l'altezza 12 Che ci sono molte probabilità di Di diciamo Appunto trovare diamanti e robe simili Altri invece mi avete detto Moltissimi altri Penso sia tipo un 50 e 50 ragazzi Di cercare una caverna A questo punto però ragazzi io direi di Spaccato tutto Di andare ad altezza 12 Effettivamente cominciare a scavare Ma non perché sono stronzo Oddio un pochettino lo sono Insomma voglio dare retta a soltanto alcune persone Ma semplicemente perché effettivamente se andiamo ad altezza 12 Magari abbiamo pure fortuna Che troviamo la caverna Quindi si riesce un pochettino a contentare tutti E poi soprattutto mi avete detto ragazzi Che nell'ultimo episodio In fondo appunto C'era un bollocco di cobblestone Ma ragazzi ma io ho visto il video E effettivamente non era un blocco di cobblestone Cioè era un blocco di ferro Però comunque andiamo a controllare Non si sa mai dai E la storia si ripete ragazzi E la storia si ripete E cosa intendi metano con la storia si ripete Che vado sotto in caverna E ovviamente sento rumori Però stavolta la cavernina l'abbiamo trovata subito Per fortuna Ragazzi io giusto per chi non avesse capito dove sono Sono semplicemente sceso Guardate e laggiù Laggiù c'è proprio a sinistra Si sale e si va proprio all'entrata della caverna Qua c'è un'altra cavernina tattica ragazzi Che sembrerebbe abbastanza figa ad esplorare Magari c'è qualcosa di buono E magari va anche in profondità Allora qui non c'è niente Quindi magari illuminiamo e basta E ce ne andiamo Intanto però voglio tappare l'acqua Perché mi sta dando una noia anomala veramente Quindi perfetto Perfetto Creeper ragazzi Creeper sono pericolosi Sono molto pericolosi Per fortuna abbiamo l'arco Un colpo glielo tiriamo Mangiamo E poi ci andiamo di spara potente Ok che Ok non ci ha fatto nemmeno mezzo cuore di danno Allora qua c'è il ragno bruttissimo che si sentiva prima Uccidiamolo E cominciamo a illuminare tutta la zona Allora Sembra Allora da questa parte è finita intanto Dall'altra parte forse continua ragazzi Molto interessante Sì Uh smeraldi anche Sì ragazzi da questa parte continua Oro E qua sotto È illuminato Mi sa che si ricollega a qualche altra caverna Che avevamo già esplorato Tipo l'altra volta Cioè alla fine penso sia un complesso di caverne Magari questo qui era Un cunicolo che non si era esplorato prima Però perfetto Ragazzi E per fortuna l'abbiamo trovato Cioè Io nello scorso episodio Ho scavato ventimila Blocchi Tipo L'oro se ne è trovato pochissimo Ora si entra in questa cavernina qui Del cavolo Come fanno ad esserci tre creeper Tre sono troppi dai Ok Cerchiamo di non far esplodere gli smeraldi Magari Se troviamo qualche villager Riusciamo anche a scambiarli per qualcosa di decente Ok alla fine non ha fatto grossi danni Quindi va anche bene così Ne è rimasto uno Eccolo qui ragazzi Cerchiamo di non far esplodere nulla Olè No 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 Non esplodere Non esplodere lì Dai muori muori Uuuuh Se me la sono rischiata questa qui Se me la sono rischiata Dai Allora Ah no era la Non ci credo Allora con calma Con calma Allora prima di tutto si prende lo smeraldo Poi prendiamo il ferro Oh perché è bello C'è il ferro E poi oh mio dio La luce che c'era prima Era la lava E oh no C'è anche dell'oro Ok però la caverna è finita qua Quindi è un pochettino brutta Come cosa Io vorrei cercare di chiudere La lava qui Senza morire Magari Perché se muoio è un problema Chiudo la lava ragazzi Perché qua sotto ci potrebbe essere Non soltanto un pozzettino d'oro Ma magari un pochettino di più E quindi magari ci sta Appunto Chiudere la lava Perché sennò brucia tutto Voluto che già quel pezzettino Li poteva finire bruciato Quindi Non è proprio una bella cosa Allora Prendiamo anche questo pezzettino qui Lo so che c'è altro ferro di ram Ma non lo prenderò Perché sono una brutta persona E perfetto C'erano 4 pezzettini d'oro Ragazzi Proprio perfetto Quindi con questa spedizione Veramente minuscola Abbiamo già trovato 19 d'oro In questa caverna Veramente schifosa Che poi schifosa Non si è rivelata Anche se effettivamente è finita Però Ok questo qui è il buchino Che si era visto prima Perfetto A questo punto ragazzi No io direi di ritornare Dove eravamo l'altra volta Che appunto Lì C'erano cose Assai interessanti Oddio Non erano assai interessanti Però comunque Possiamo andare all'altezza 12 Scavare E comunque appunto Perché l'ho rotta Non lo so Appunto volevo andare a controllare Quel blocchettino lì Mistico Cos'era Così almeno Siamo tutti più contenti E sappiamo effettivamente Cos'è Il problema È che l'ultima volta Quando sono andato a scavare Per cercare Quella maledettissima caverna Che non riuscivo a trovare Perché c'era il pipistrello Che faceva casino Tutto il tempo Io ho fatto un casino Di tunnel qui E ragazzi Io non capisco più Minimamente Quale cavolo sia La strada giusta Per tornare In quella dannatissima Caverna Quindi effettivamente Penso di essermi perso Nelle mie stesse caverne Cioè guardate Non si capisce nulla Sono strade Che a caso Non portano Da nessuna parte Non portano Da nessuna parte Quindi ragazzi Io penso che A questo punto Nemmeno posso andare a controllare La caverna Che volevo controllare Mi sono già perso ragazzi Non ho parole Scavo verso il basso Fino all'altezza 12 E appunto Cerco qualche caverna Qualcosa interessante Perché veramente Io mi sono perso E quindi È triste come cosa Girando nei tunnel A caso Magicamente ho trovato La caverna veramente Che cosa bella Ah no Ma è quella di prima Non ci credo No Sono tornato qui Ma com'è possibile Vabbè è vero Però prendo un pochettino Di carbone Perché ragazzi Ho finito le torce E se veramente Bisogna stare a fare tunnel Qui è un casino E non ci avanzano proprio Cioè non ci bastano le torce Quindi a meno che non troviamo Il carbone Mentre si va Cosa che la vedo Alquanto comunque è difficile Perché non è che Ogni tre blocchi C'è il carbone Almeno così ragazzi Riusciamo un pochettino A fare un tunnel Un po' lungo Perché con dieci torce Non si faceva Assolutamente niente Dai Allora io ho scavato Verso il basso Così a caso C'è la strada qua Che è quella Per risalire in cima Dove Dove si entra Schiavando verso il basso Ragazzi Mi trovai In una selva oscura No in verità Mi sono ritrovato In questa caverna qui Che penso sia proprio La caverna Che stavamo cercando Ragazzi Questa qui Dovrebbe veramente Essere proprio Intanto metto Un pochettino Così a caso Dovrebbe essere Proprio la caverna Quella lì Dove siamo sempre Andati Sì esatto Questa qui Era la parte Dove c'era Il coso strano E tante belle cose Però io sinceramente Non mi ricordo Dove era Tipo il coso Che dicevate voi Quindi Boh ragazzi Boh probabilmente Era dall'altra parte Non ne sono sicuro Comunque Almeno Lato positivo Abbiamo ritrovato La caverna La nostra bellissima Caverna ragazzi Allora ragazzi Dopo Dieci minuti Quindici minuti Non so da quanto sto cercando A questo punto Finalmente ci siamo arrivati Allora io Lo scorso episodio Ero qui Che stavo scavando Prendo questo pezzo Di ferro Che stava qui E sbam Si vede questa cosa qui E tutti scatenare L'inferno Metano E c'è un dungeon E un pezzo di cobblestone E c'è chi dice Ma magari l'ha piaciuto lui Come ho fatto a piaciuto lui Se c'è il blocco sopra Lì non lo so Comunque ragazzi Io penso fosse un blocco di ferro E invece no È un blocco di Di quel materiale Che non mi ricordo mai Come si chiama Non c'è nessun dungeon Ragazzi Me ne sarei accorto In effetti Se ci fosse stata Della cobblestone Non l'avrei conosciuta Quindi ragazzi Sono stato qui E mezz'ora Per cercare questa cosa Per dimostrarvelo Perché io sapevo già Che non era un blocco di cobblestone Perché pensavo fosse ferro Comunque mi sono sbeato pure io Ma Per voi Questo è d'altro Proprio Leccaculo style Mod on A questo punto ragazzi Io comincerei a scavare Un pochettino A livello Questo qui Che non so Miniamente nemmeno A che livello siamo Che siamo a livello 11 Proprio Scavo un pochettino In questa direzione qui Per proprio 5 minuti contati Se trovo qualcosa Oh mio dio Subito così Diretto ragazzi Comunque trovo qualcosa Ve lo faccio vedere Se non trovo niente E C'è andata male ragazzi C'è andata male Comunque cavolo Oh dio ragazzi Quanto oro è Quanto No 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 Lava la lava la lava Oh mio dio ragazzi Qua si rischia la vita Bisogna stare attenti Sono stato un po' stupidotto A rischiarmela così tanto In effetti a scavare i blocchi In quel modo lezzo Ragazzi ma In questo episodio qui Abbiamo trovato Totalmente a caso 28 d'oro Cioè è onestissima Come cosa Comunque dai scavo un pochettino E spero di trovare appunto qualcosa E poi scavando In questa direzione Tan 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 Trovo una caverna Che avevamo già esplorato prima Che oh mio dio Me la ricordo questa qui Questa qui è quella Che appunto Si fa il giro da questa parte Si va davanti Cioè si va lì Si gira a destra E si torna qua ragazzi Cioè Incredibile proprio Le cose tattiche Quindi a questo punto Io so già da questa parte Che si esce Tappo qua Così almeno so che Se scendo Devo continuare soltanto In questa direzione E forse ci va bene Adesso devo craftare Altre torce ragazzi Perché se no qui Non si va molto lontano via Quindi ce ne facciamo Sei in numero Che poi sei in numero Diventano tantissime E continuiamo dai La lava Allora A parte la redstone Non è che vi voglio far vedere Che ho trovato la redstone Ci mancherebbe Sento pipistrelli ragazzi Li sento Sulla destra E io non capisco una cosa Qua è pieno di caverne Che comunque abbiamo già esplorato Il fatto è questo Ma nelle caverne illuminate Non spuonano in teoria i mob Ma non dovrebbero spuonare mob Ostili Che io sappia Il pipistrello in teoria Non dovrebbe essere un mob ostile Ma il fatto è Spuonerà anche nelle caverne Esplorate e illuminate Domanda Assai Mistica Quindi non lo so Cercherò questa caverna Perché se c'è il pipistrello Per forza c'è la caverna Se puoi esplorare o no Questo non lo so Però sicuramente la caverna c'è Quindi mi metto un attimo A cercarla Via Che bello Altro oro Comunque sento anche dell'acqua Quindi probabilmente Ci siamo molto vicini E Se non sbaglio L'acqua c'era soltanto Oh mio dio Cos'è questo coso No 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 Ragazzi riconosco il posto Cioè vi rendete conto Ho spaccato a malapena un blocco Già riconosco il posto Dove c'era appunto la cascata di lava E No non è quello Oddio ragazzi Non esco Aspettate Ma non riesco a capirlo Cosa cavolo Uuuuh Interessante Non è ciò che pensavo ragazzi Non è assolutamente ciò che pensavo Questo qui È una bellissima struttura Non è una struttura Come cavolo si chiamano Insomma Non mi viene ragazzi il nome Avevano un nome comunque queste robe qui Che spawnano E non sono semplicemente Come cavolo li chiamavo io Spaccature o canyon E robe simili Questo qui ha proprio un nome in minecraft Ma non mi ricordo mai qual è Comunque Sembra abbastanza interessante Perché siamo ad un'altezza abbastanza alta Non ve lo nego Non siamo proprio Ad altezza 12 Perché ho scavato un pochettino in alto Prima di arrivarci Vabbè A parte basta controllare Siamo ad altezza 29 Però Appunto In certi punti Scende ragazzi Scende E probabilmente va in certi punti Mistici Magari anche ad altezza 12 Di nuovo Oh i smeraldini Prendiamoli sempre Quindi ragazzi Questa qui Oh altri smeraldini laggiù Ah ok Magari anche fortunata Magari anche fortunata Perché già Se scendiamo così E più o meno è tutta Questa altezza Dovrebbe essere Tipo in turno al 20 Ok 21 Quindi ragazzi Questa caverina qui Ci potrebbe dare Grosse soddisfazioni Ma Ovviamente La esploreremo Nel prossimo episodio Quindi ragazzi Come al solito Io spero che questo video Leggissimo Vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti